D'accordissimo, d'accordissimo perché è una cosa indecorosa, nessuno controlla e molti lo usano ancora nonostante poi ormai le macchine abbiamo tutti il bluetooth, quindi uno se vuole parlare parla col bluetooth. C'è anche la sospensione della patente e la degurtazione di 5 punti. Magari, sarei contentissima. Arriva la nuova stretta su smartphone, tablet e apparecchi che allontanano le mani dal volante alla guida. Per il Parlamento la revisione del codice della strada introdotta nel decreto infrastrutture dovrà passare anche da qui. Le commissioni ambiente e trasporti della Camera hanno già iniziato ieri ad esaminare gli oltre 400 emendamenti al testo arrivati dai partiti che hanno segnalato le loro proposte prioritarie. In particolare, nel caso dell'uso del cellulare alla guida, si parla di un inasprimento delle sanzioni che potrebbero ammontare dai 422 ai 1697 euro. Attualmente, invece, la multa oscilla tra i 167 e 661 euro. In più sarà prevista la sospensione della patente da 7 giorni a 2 mesi con la degurtazione di 5 punti. Per chi è recidivo, nell'arco di due anni, la multa sarà aumentata e ammonterà dai 644 a 2588 euro, mentre la patente verrà sospesa da 1 a 3 mesi con 10 punti sottratti sulla patente. Un tema che trova d'accordo anche i cittadini pesaresi che su questo, ai microfoni di Fano TV, hanno espresso il loro parere. Chi guida non deve usare il telefono, quindi sono intorti completamente quelli che guidano. Non devono ascoltare la musica e non devono parlare al telefono. E devono avere la cintura, non di castità, la cintura di questa qua. Ci distrae uno, non c'è niente da fare, vieni a pensare a altre cose, non stai lì a guardare la strada. Fa molto bene perché gli incidenti, il 70% sulle macchine sono per chi parla a cellulare così, anche in autostrada. Quindi è giusto aumentare le sanzioni? Le sanzioni e il ritiro di patente per 5 anni. Non voglio discutere sui tempi, ma penso che bisogna farsi sentire in qualche maniera, perché qui sta dilagando la maleducazione. La signora cosa pensa? Perfettamente d'accordo, anche se io non guido, però vedo che i miei figli hanno tutte le cellulare, cioè possono parlare guidando senza rispondere, che è molto pericoloso, perché comunque uno si distrae, basta una sciocchezza, cioè non vedo perché uno dobbia mettere in pericolo la vita proprio altrui per rispondere al cellulare. Quindi anche il ritiro della patente è una cosa molto grave, perché poi lo dimostrano le statistiche, che tanta gente ha perso la vita o l'ha fatta perdere ad altri, quindi non mi pare che ci siano obiezioni da fare. Perché se ne vedono un sacco di persone che viaggiano con questo cellulare, magari si fermano a stop e ripartono sempre col cellulare, e naturalmente questo crea che uno si distrae e magari va anche a sbattere.